e prendiamo a vedere un po e se può fare dunque le missioni che avevo via da portate da quella dai monsini c'è ancora la strada della libertà la rosa abbiamo l'intero Commonwealth da esplorare da dove cominciamo ma vattene tutta vai lì va andiamo a fare questo da monsini anzi vabbè a parte che dovrà andare fin lì cerchiamolo che è diffuso poi a limite vediamo se la cosa fare ah da monsini posso prendere un po' di un po' di proiettili a 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 livello a 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 10 ore no 10 ore no 10 ore no 10 ore 10 ore 20 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 not now come back later sir you're bothering me Hawthorne hey what's your story mercenary uh huh wrong on both tries hmm I can usually spot a higher gun on the first anyway I'm just kicking back and sharing stories while I'm between things I've been all over seen vaults you've been to a vault yeah ever heard of Vault 81 they're standoffish but every once in a while they'll let new people in I don't like you let's hear your best monster story I'm from Diamond City you want to talk something really scary it's the institute and their sense don't go to University Point trust me you don't wanna know I'll keep you okay University Point uh so you explore old ruins last place I was going to check out was sailing real old town farther to north never made it though maybe I'll love you like a radio program see you around Hawthorne yeah take it easy yeah I'm sure take it easy but what what's this about oh oh watch 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 not so tough once you're not on the air hey there pal what's this about oh it's you I'm here to give you a hand I'm not really looking to cause you know trouble I don't I don't I have no idea what I did to deserve this I just wish they'd go away let's do something about this then no no I that might end badly with these men it could well it could it could turn violent don't worry don't worry I've got your back well if you think it would work we're right behind you okay that's well that's enough hey oh wait there okay say something I said I said that's enough leave me alone look at you hmm let me think about that for a second I think so get lost ah no has parado Travis oh jeez Vadim what the hell is wrong with you you were supposed to help Travis in why would you think I don't know what's next are you kidding I will try and fix you have seen Scarlett now I am just simple about it but I see things I see how Travis looks if someone who was not her employer suggests that she go spend why do I have to be involved in this think about it I am Scarlett's boss I tell her she needs to apparently I also need to say please do not be killing anyone just do whatever it takes to get her and you and I Zina I don't need to it's the other that he's who is I'm not going anywhere he's he's who is he's who I have have you I ma io sono passato a un giornatello che fa molto carissima ma ne ha detto a Noi non ho capito. Magari... Non, non non. Non posso andare all'interno. Guarda, Travis è un figlioso. Mi posso dire che ti piace. E credo che ti piace. Gli parlare con lui. Ok, mi asciugio. Ora vi vedere lui. Grazie. Devo farmi cruda, non è che non mi sono ammalato, ecco qua. Un po' di carenza di cosa da mangiare. Buongiorno. Questo è vero. Lo sapevo. E guarda cosa sta succedendo ora. Hai bisogno di aiutare. Non posso farlo. Hai bisogno di aiutare. Cosa stai parlando? Stai parlando di Vadim. E' stato coi gli ufissi. Ci sono arrivati. Direi erano amici di quello che avevi matato. Diceva che gli ufissi, la di Vadim ha fatto tutto il fatto. Non poteva. E' stato coi i loro, e dicevi... Che vuoi fare qualcosa. E' un po' di trezza. E' un po' di trezza. E' un po' di trezza. E' un po' di trezza, ma è il mio fraccio. Dr. Travis. Hai un po' di trezza di macinina. Parlo con la mega illicità. Qu'è un po' di trezza? Non è riletto! i minuti sono arrivati fuori fuori se sei freddo, prendete un po' un po' di powerhouse just talk to them all hey there, what's going on? I need your help, Vadim's been kidnapped by friends of... that's not funny I'm not joking around, Travis, this is serious wait, really? oh, oh man look, Vadim's had dealings with those guys before why they took him doesn't matter getting him back does, you're right we've got to get him back yeah, yeah, we do, Travis where's this been hiding? look, I don't really, I mean I don't have a lot of friends if Vadim is missing or in trouble or whatever then I'm gonna help get him back it's probably gonna be dangerous I expect things will get ugly I'm not, I'm I'm not stupid I've heard enough to know they're probably hold up at the old Beantown brewery sure, and then we can bring Vadim back oh 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 uh birrificio Beantown l'hanno già stati, l'hanno già ripuliti let me take the hunt Oh 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 Vabbè, non è distante. Probabilmente riusciamo a fare il livello. Vabbè, non è distante. Andiamo ancora a testarlo, come si deve, allora, il veicolo mi interessa o no? Per andarci con l'armatura atomica e cavallo. Andiamo. 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 No more obituali! Eeeh, non c'è. che cosa? devo avere una concussione, sto vedendo cose Grazie a tutti 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 I didn't know... Dang... Are there more of them? No, no... Yeah... These idiots... I... I am surprised to see you here They are already seen... I'm glad you're safe... How did you get broke into this? I... I wasn't forced or anything... That's it I wanted to help... You are full of surprises, my friend... Going down... Going down... You are full of enemies... I am going down... I am going down... I am going down... I don't know... I don't know... Ehi, man, che giorni, eh? Oh, bene. Allora, qui poi pian piano farò sostituire i... Allora, qui poi pian piano farò sostituire. Allora, qui poi pian piano farò sostituire. Deve essere ormai servito. Bene. Adesso l'inzona rimane alla pista della libertà. Ok. 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 Grazie. 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 Faccia strada e io la seguirò. È un piacere servirla. Va bene anche così. Non riesce a lavorare. Non mi ricordo la prima volta che ho avuto pezzi. Se sembra cresci bene. Va bene, dai. Vieni a dormire. Siamo una squadra interessante Out here We gotta take things one day at a time Saluto qui adesso Allora Siamo alla prossima